La stagione turistica si preannuncia buona per le strutture di accoglienza ufficiali, ma ancora di più stapano lo spumante i furbetti dell'appartamentino, quelli che dietro la nobile parvenza della scierina economy rappresentano il lato scuro dell'economia. Quanto sottolinea in una nota la Federal Berghic Conf Commercio di Nuoro-Gliastra, che ha elaborato uno studio che mette in luce numeri impressionanti per quanto riguarda il sommerso nel campo della ricettività turistica. In provincia di Nuoro sono registrate 490 strutture ricettive regolari, su TripAdvisor sono censite 1.132, su Airbnb 1.696, mentre 2.910 lo sono su HomeAway. I dati in possesso di Federal Berghic indicano che Airbnb ha 284 alloggi ad Orgali, 229 a Rosei, 188 a Siniscola, 133 a Tortoli, 125 a Baunay. La Federal Berghic sottolinea che non si tratta solo di sharing economy, dal momento che un esame più approfondito dei siti fa emergere che non si tratta di alloggi condivisi, perché il 76,12% sono appartamenti interi. Non si tratta di attività occasionali, perché l'81% degli alloggi è a disposizione per oltre 180 giorni all'anno. Inoltre non si tratta di piccoli redditi, perché il 65,74% degli host gestiscono più di un alloggio. Inoltre a fronte di fatturati e ricavi consistenti, queste attività non hanno corrisposto ad oggi a porti equivalenti in termini di contributo all'erario. Con l'arrivo dal primo giugno scorso della cedolare secca al 21%, sottolinea la Federal Berghic, si andrà a sanare almeno una parte dell'evasione fiscale che si verificava. Un'economia legale che, sottolinea l'associazione, danneggia sia le strutture turistiche tradizionali che le nuove forme di accoglienza, come i bed and breakfast. Inoltre le strutture legali scaricano sulle utenze domestiche e non i maggiori costi di smaltimento dei rifiuti causati dal picco di presenze nei periodi di punta. La Federal Berghic chiede stesso mercato, stesse regole, e auspica maggiori controlli da parte dei comuni, e invita i sindaci ad inviare la Polizia Municipale a fare le verifiche.